A Palazzo San Giacomo, un'assemblea delle associazioni e dei soggetti che lavorano nelle strutture confiscate alla criminalità organizzata. Lo scopo è quello di elaborare in modo partecipato una carta dei servizi per definire gli standard operativi di queste strutture. Per la prima volta c'è l'idea di creare una vera e propria carta dei servizi dei beni confiscati. In questi beni confiscati organizzazioni del terzo settore e non solo creano servizi per la cittadinanza, occupandosi dei più deboli dove c'erano invece qualcuno che pensava di essere forte, invece è stato scalzato dallo Stato e il Comune ha affidato questi beni a questi soggetti del terzo settore e non solo e oggi sono qui per creare la prima carta dei servizi. I beni confiscati alla criminalità organizzata vengono di norma attribuiti a chi produce servizi per la collettività, soprattutto in ambito sociale. Il Comune ha deciso di riconoscere una tassa dei rifiuti agevolata a queste strutture. C'è la volontà del Consiglio Comunale di metterci delle risorse, quindi mettendo 40.000 euro a disposizione di questo intento, perché chi lavora in terreno dove c'erano prima le mafie, le camorre e oggi invece viene restituito per scopi sociali alla cittadinanza deve essere aiutato e sostenuto. E presto il Comune di Napoli farà nuove assegnazioni. Questo è un confronto utile perché molti beni del Comune di Napoli, sempre beni confiscati, verranno rimessi a bando, sempre per finalità sociale perché teniamo al riutilizzo sociale di questi beni confiscati. Grazie 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 Grazie